L'incidente nella serata di venerdì 21 ottobre poco prima delle 20.30 sulla provinciale 222 frazione Sant'Antonio di Castellamonte. Due vetture, una Lancia Y con a bordo due ragazzi e una Fiat Punto con alla guida un uomo si sono scontrate. L'impatto è stato alquanto violento. La Lancia Y è uscita di strada oltrepassando il posto e finendo contro una Peugeot 3008 parcheggiata. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca del Canavese e i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea. Dopo le prime cure, la ragazza che si trovava sulla Y e il conducente della Punto sono state trasportate in ospedale. Non sono in pericolo di vita. La dinamica è a vaglio dei carabinieri. Grazie a tutti.